Finisce 0-0 il match tra San Cataldese e Santa Maria Cilento al Valentino Mazzola di San Cataldo per l'ottava giornata del campionato di Serie D Gironei. Solo un punto per la squadra allenata da Pietro Infantino, reduce da un pesante 4-0 sul campo del Real Aversa. I Verdi Amaranto lasciano l'ultimo posto agganciando il Cittanova. Adesso testa al derby con il Trapani alla Provinciale per tentare di conquistare punti preziosi in chiave salvezza. I risultati. Sant'Agata e Locri 12, Castrovillari e Licata 11, Canicattì, Trapani e Cireale 9, San Luca e Paternò 7, San Cataldese e Cittanova 4, Mariglianese 3. 0-0 anche tra Castellammare e Nissa per la settima giornata del campionato di eccellenza. Risultato più volte in bilico nel corso della gara. Al quattordicesimo Terranova raccoglie un traversone e di testa va in gol. L'arbitro annulla per fuorigioco. Al ventesimo replica Scribbani che con una conclusione dal limite colpisce il palo. Nella ripresa Nissa in dieci per l'espulsione di Retucci. Nei minuti finali cartellino rosso anche per Maltese del Castellammare. E prima del triplice fischio i nisseni chiedono un calcio di rigore per un fallo subito da un bianco scudato in piena area avversaria. Intanto continua a tenere banco la questione dell'indisponibilità del Tomaselli e delle linee del rettangolo di gioco. In una nota pubblicata sulla pagina Facebook della Nissa il presidente Sergio Iacona scrive Vedere uno stadio pronto che non viene consegnato alla città è francamente intollerabile e inaccettabile. Da più parti anche cittadini non solo sportivi auspicano che l'impianto venga riaperto al più presto per tutti gli sport e le discipline praticabili all'interno della stessa struttura. I risultati del Girone A di eccellenza Castellammare, Nissa 0 a 0 Parmonval, Acragas 0 a 6 Cus Palermo, Leonfortese 1 a 2 Don Carlo, Sciacca 4 a 0 Enna, Resuttana 0 a 0 Gela, Mazzara 0 a 3 Profavara, Oratorio, Marineo 1 a 0 Mazzarese, Casteldaccia 5 a 1 La classifica Acragas 19 Don Carlo, Mazzarese, Enna e Profavara 15 Mazzara 14 Sciacca 12 Casteldaccia 10 Castellammare e Leonfortese 7 Cus Palermo 6 Nissa, Oratorio, Marineo e Resuttana 5 Parmonval 4 Gela 2